Industria 4.0 Industria 4.0 è un termine che è stato inventato in Germania nel 2011 per affrontare un problema di riprogettazione del sistema industriale tedesco sulla base delle nuove capacità tecnologiche che venivano fornite da Internet of Things, dai Big Data e anche dall'integrazione del cliente finale. Quindi è un termine che nasce in quel contesto. Poi, diciamo, in modalità più generale oggi lo si assume come un paradigma. Secondo appunto il panel di esperti, attorno al 2025 noi avremo ancora meno della metà delle nostre piccole e medie imprese che saranno passate a un modello di Industria 4.0. Quindi progresso ce ne sarà certamente, però il ritmo sarà inferiore a quello degli altri paesi e quindi resteremo ancora appunto fra otto anni un paese follower. Netflix Open Connect è la CDN di Netflix. Facciamo delivery di 100% dei contenuti di Netflix dall'Italia. Ovviamente abbiamo una buona presenza in Italia, facciamo peer in pubblico a Mix e a Topics e abbiamo possibilità di interconnesserci privatamente ad Infracom a Milano con 99% del mercato italiano. La situazione in Italia è abbastanza dipendente da Milano al momento e questo è una ragione storica. Il perché? Perché il Caldera Business Campus è stato il primo posto in Italia dove l'Internet è nato ed è il posto più interconnesso d'Italia ancora adesso. Maners è un documento che nasce dall'esigenza di creare delle azioni, dei punti per tutti gli operatori in modo che si crei una etichetta. Tutto questo dovrebbe come fine ultimo concorrere ad avere una Internet con una migliore resa. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS